Una famiglia per una famiglia è un progetto di affiancamento pensato per fornire assistenza alle famiglie che vivono un periodo di difficoltà. I due nuclei familiari, affiancati da un tutor, si impegnano tramite un patto di collaborazione della durata di un anno a costruire un progetto di formazione guidato dai principi di parità e reciprocità. Questo progetto è un progetto che da parecchi anni la fondazione sta sviluppando a livello nazionale. Siamo molto orgogliosi di riuscire a partire anche sulla città di Napoli. L'iniziativa, sviluppata dalla fondazione Paideia, è sostenuta dall'assessorato al welfare del comune di Napoli. Stiamo costruendo questa rete. È una rete in realtà molto faticosa e anche un po' ambiziosa perché bisogna avvicinare le famiglie, bisogna riuscire a passare anche quest'idea di fiducia e di capacità anche di affidamento. Però le famiglie anche disponibili a incontrare e sostenere altre famiglie sono tante. Bisogna dare le informazioni giuste, la sensibilizzazione è chiaramente un aspetto molto importante e noi crediamo che sia davvero uno strumento potente di sostegno.